e li fa girare, difatti, i cardin come... teni su queste cose, e i cardin che noi altri contai in pavanzi a me e mon cancari, sì, cancari, cancari c'ha a me. Ma vorresti che il cancaro si mangiasse tutti sti qua, ma questi non ci mai vediu le porte del paraiso. E li diciamo carcaro, cancaro l'ustrissimo cardinale, cancaro. sono mati da impiccare pezzorte quel Martin Lutero o l'oretico tedesco che va dicendo che il Papa è una sbofonaria e che il nostro Signore Gesù Cristo non ha mai ordinato che si facesse un Papa e che suoi avendo una volta solo nel Vanzelo che è scritto la parola Papa o Papon che sarebbe una suba di pane di D'Argecan ma questi qua non che passa per essere il velo perché voi potreste anche venire Papa così che tutti e noi altri che tocca venire a verde a Roma camminando a catononi con una zinta di cana il colo a buiarvi Papa cancara Papa scardinale sai cosa vuol dire scardinale in nostro linguaggio ora ve lo dico scardinale è un prince un signore un ricco che in sto mondo si dà un gran plasere ma quando che more ho avuto una novella tremenda illustrissima